e adesso ne passiamo invece al premio Lady Fair Play 2021-2022 si finge di rossa questo studio assegnato dal comitato di una personalità femminile distintasi per risultati sportivi ed esempio positivo per tutto lo sport esempio anche per mia figlia perché quello che sto per raccontare è quello che vivo io al parco tutti i giorni con mia figlia classe 1993 è originaria di Milano e la sua passione per il calcio è sempre stata parte di lei in particolare già a 5 anni giocava con i maschi nella scuola e poi tornava a casa e coinvolgeva anche la sorella insomma tutto per seguire e coltivare la sua passione e sì perché ha fatto una carriera all'estero nella Juventus e dal 2021 al Milan oltre a essere portiere della nostra nazionale vabbè della mostra Laura Giuliani è il premio Lady Fair Play per lei raccoglie un'eredità bella importante, pesante come quella di Saragama insomma immagino che per lei sia motivo di grande soddisfazione da calciatrice prima di essere atleta credo che sia importante essere persone portare i valori del club in campo per noi è una responsabilità importante anche per trasmetterli alle più piccole e a chi si affaccia al nostro movimento Allora il calcio femminile è diventato anche professionistico insomma è un gran traguardo per noi donne e anche per voi sportive cosa ne pensi? C'è ancora di fare di più? Il professionismo per noi è un grande traguardo ma anche e soprattutto un punto di partenza un punto di partenza guardando al futuro e ricordandoci da dove siamo partite e dove vogliamo arrivare quindi era il sogno di quando eravamo piccole e ad oggi questo sogno è diventato realtà poi ci sono tante cose da fare tante cose da migliorare noi dobbiamo essere pronte a far parte di tutto il cambiamento che è in atto e metterci in gioco per questo Bene, grazie a Laura Giuliani e un bocca al lupo per il professionismo femminile nel calcio dalla prossima stagione Grazie a tutti